Alessandra, il tema tasse, tra l'altro vorrei parlare di Calabria, Sud, tasse, diciamo che... Ma c'è un dato fondamentale che viene riconosciuto, è uscito anche in questi ultimi giorni dalla CGA di Mestre, dal loro osservatorio. Il 92% del tessuto nostro è fatto da piccole e medie imprese, di queste è uscito che la tassazione sui ricavi è il 59,1%, mentre i grandi colossi del web pagano meno del 33%. Allora, su questa differenza bisognerebbe riuscire a integrare quelli che sono gli sviluppi del tessuto sociale italiano e industriale, perché noi dobbiamo riuscire a capire che in questa epoca di start-up, di volontà a crescere, di voler essere sul territorio, ognuno di noi deve diventare imprenditore di se stesso, perché non si trova al lavoro, e allora bisogna riuscire ad agevolare quelle piccole e medie imprese o quelle start-up che vogliono crescere. Allora, grazie Alessandra. Grazie a voi.